story time evoluzione radio e bentornati nel salotto di story time di radio italia 5 la radio del centro italia come sempre con la vostra jessica guiggiani come sempre pronti a rendere protagoniste tantissime storie di tantissime realtà da tutta l'italia e non solo liberi professionisti imprenditori artisti ai quali dar voce dal punto di vista radiofoniche web come sempre con la vostra voce amica jessica guiggiani parliamo pensate con un illustratore dalla toscana in fm radio web e sui social story time ufficiali hashtag evoluzione radio seguite michele giorgi ben trovato micchi come stai ciao jessica benissimo grazie posso darti del tuo assolutamente sì e allora tu hai 33 anni sei giovanissimo ragazzino lavori da otto anni nel settore dell'illustrazione sì esattamente ecco ci racconti un po come nasce la tua passione per il disegno come ti sei formato per quanto riguarda il campo dell'illustrazione sia il tuo primo lavoro dove lo eserci ti si può lanciare un indirizzo dei contatti cosa fai prego ok allora la mia passione è nata da bambino io ho sempre disegnato sempre amato disegnare disegnava anche un sacco con mio padre e poi si è sviluppato questo amore personale per il disegno e a un certo punto io mi sono dovuto adeguare esatto da un certo punto di ciò che hai per vivere c'è bisogno di soldi e quindi io voglio fare questa cosa per sempre io voglio disegnare tutto il giorno e come si fa bisogna attraversare un percorso di studi o magari anche un percorso professionale per fare ciò e quindi la mia vita è stata incentrata sull'inseguire questo sogno quindi il liceo ed il liceo artistico anche lì l'attitudine era quella perché io avevo voti altissimi o alti comunque in materia artistica in disegno ma bassi sul resto del materiale perché io mi addormentavo sui libri ah meraviglioso durante le altre lezioni lui dormiva mi sembra giusto anche a me è successo una volta a due o disegnavo sul quaderno direttamente o sul banchino ormai anche i professori lo sapevano che meraviglia come facciamo a seguirti come illustratore su facebook instagram linkedin nel sito per vedere i tuoi meravigliosi lavori di una vita allora si ho tantissimi social uno è su instagram ovviamente con michele giorgi illustrator su facebook mi trovate sempre con michele giorgi illustrator e sono anche su linkedin michele giorgi bene il sito il sito è michele giorgi illustrator.com meraviglioso ecco e ad oggi ecco dove eserci cioè come ti sei formato lo abbiamo detto e poi come eserciti nel campo dell'illustrazione se vuoi lanciare un indirizzo ma esercito dal mio studio in casa mia lavoro maggiormente con l'estero a questo punto sei un libro professionista sono un libro professionista si lavoro fin dall'inizio ho sempre lavorato maggiormente a parte qualche piccolo lavoretto mi sono buttato nel mondo estero perché certo era proprio il settore che piaceva a me cioè il fantasy il gioco da tavolo le carte l'illustrazione di gioco come magic the gathering per esempio l'ambiente era estero e quindi mi sono dovuto buttare lì per fare ciò che mi rendeva felice come hai trovato questa occasione lavorativa lavori da casa quali sono tutti i tipi di illustrazioni che offri che ti richiedono e tutti i servizi di attività correlate ai disegni prego allora come ho trovato questa attività lavorativa beh io ho fatto la scuola di comics a firenze e lì ho conosciuto insegnanti uno in particolare che è lucio parrillo che è un illustratore un artista molto molto famoso che mi ha consigliato di cercare su internet le aziende le agenzie estere le quali hanno un indirizzo mail alle quali gli artisti possono mandare il proprio portfolio e io ho cominciato a mandare le mie bottiglie con il messaggio di carta nel mare e alla fine qualcuno ha risposto e mi hanno dato la possibilità e da lì è stata una scalata tra le prima le piccole agenzie e poi sempre più grandi fino ad arrivare oggi alla wizard of the coast che è la produttrice di magic the gathering e anche dungeons and dragons che è un gioco conosco complimenti davvero ma sei bravissimo grazie e allora michele giorgi illustrator ora quando le guardo penso a te facebook michele giorgi illustrator instagram michele giorgi linkedin il sito www.michelegiorgiillustrator.com meraviglioso tre parole per descrivere i tuoi lavori e degli esempi dei tuoi lavori più importanti con questa collaborazione e se svolgi anche altri lavori nel campo dell'illustrazione prego allora tre parole allora tre parole uno sarebbe il fantasy l'horror e la stranezza la particolarità sono tre cose che vanno di pari passo e io amo disegnare perché prego beh il fantasy è sempre stata una passione personale sia in opere letterarie che cinematografiche anche l'horror in realtà e la stranezza sono tutte quelle storie che hanno un po di questa tutte queste tre cose insieme cioè sono ambienti favolistici magari per esempio in labyrinth un film degli anni 80 dove c'è un mondo fantastico pieno di creature meravigliose ma anche di pericoli e di stranezze che tutto insieme creano in me una forte emozione e che tento di riproporre nei miei lavori in quello che disegno Michele Giorgi Illustrator Michele Giorgi meraviglioso ecco tu al momento disegni anche carte magic giusto ci racconti? allora è stata una fortissima emozione riuscire ad arrivare a questo traguardo personale sono riuscito tramite una mentorship perché mi sono deciso di fare un corso approfondito seguito da un professionista che proprio ti istruiva attraverso il percorso e quali sono le metriche per riuscire ad avere un buon risultato ad essere visti dall'azienda ed è successo e le carte magic sono... scusami qual era... mi sono pezzo ecco se ci racconti un po' cosa vuol dire realizzare queste carte magiche se ce ne vuoi parlare come vengono realizzate come avviene il lavoro quello che vuoi assolutamente allora la carta magic viene realizzata tramite un briefing ti mandano una direzione artistica nella quale viene descritta la carta la sua funzione e il mood soprattutto anche l'emotività della carta e importantissimo il colore perché le carte magic hanno una ruota cromatica molto importante ogni ruota cromatica ha un simbolismo e una fazione diciamo e quindi i colori della tua illustrazione dovranno essere corrispondenti questo aiuta l'illustratore a sapere quale mood creare, quale inquadratura e quali sono le funzioni anche cosa fa la carta se è una carta importante, se è un personaggio magari di secondo piano magari molto importante a livello della tematica e del mondo di Magic the Gathering quindi è molto molto interessante e affacciarsi proprio a anche il gioco in sé ma agli universi che fanno parte di Magic the Gathering io ricevo anche i briefing delle reference, proprio dei documenti con password segreta e che ti danno la possibilità di vedere gli studi, i concept, tutto ciò che c'è dietro il mondo di Magic e questo mi aiuta anche a imparare di più e a mettermi alla prova con me stesso perché alle volte le carte sono difficili Certo, come definiresti il tuo stile, la tua tecnica, il tuo modo di illustrare, di lavorare e anche nei tuoi lavori digitali? Allora io sono partito con i miei studi con la tecnica tradizionale io ho seguito nella scuola di comics e poi personalmente seguendo workshop e altri artisti che tenevano workshop sono partito da tecniche tradizionali acrilice e olio e a me piace molto la pennellata, la texture del pennello lo stile un po' abbozzato, pittorico Quindi molto pittorico anche nei lavori digitali Tu sei presente anche su ArtStation, ce ne vuoi parlare, la vuoi menzionare, di chi si tratta? Poi se hai progetti, collaborazioni, novità, cosa ti rende unico e che messaggio e dedica vuoi lanciare? Allora, ArtStation è un social sviluppato per gli artisti quindi dove si tratta unicamente, si postano tutti i lavori artistici 3D, 2D e dove si può trovare anche collaborazioni con altre aziende Al momento sono delle collaborazioni che stanno per arrivare, che forse arriveranno ma non posso parlarne perché sono private Top secret, ce le racconti la prossima volta Assolutamente, sì Novità, eventi, date, cosa vuoi aggiungere, quello che vuoi? Novità, allora sarò presente a Modena, per la fiera di Modena Modena, scusa non mi ricordo qual è Vabbè, ha una fiera, è importante, non c'è problema, prego E basta Perfetto, meraviglioso, caro Io spero di averti fatto sentire a casa e di riaverti presto a Radio Italia 5 Torni a trovarmi? Assolutamente sì, quando ci sarà occasione, volentieri Michele Giorgi Illustrator, seguitelo ovunque, realizza anche Carti Magic e lavora per? Per la Wizard of the Coast Complimenti davvero, a chi dedichi l'intervista? La dedico alla mia compagna, Diana, che mi ha sempre supportato e che anche oggi continuo a farlo È qui con te, è sempre con te? È sempre con te, non è venuta oggi, ma sì, è sempre con me Certo che sì, Diana hai un compagno meraviglioso e un vero professionista e sicuramente tu sarai come lui Ciao, al prossimo Storytime E seguite Radio Italia 5, torno a Michele Giorgi Illustratore, ciao Ciao Storytime, evoluzione radio